Oh, guardate! Una scia luminosa! Mamma gatta! Andiamo a vedere cosa succede. Non è una scia luminosa. Ma allora che cos'è? È una vera astronave extraterrestre! Una gattina aliena! A nome di tutti i gatti della Terra, ti do il benvenuto, amica! Un saluto a voi, gatti terrestri! Il mio nome è Astricat e vengo dal pianeta... Miau! Che vi dicevo? Esiste davvero? Purtroppo, ho dovuto fare un atterraggio di fortuna qui. Perché non entri e ci racconti tutto del tuo pianeta? Non posso. Mi dispiace, ma devo riparare la mia nave spaziale e ripartire per lo spazio il prima possibile. Niente paura, noi Buffycats ti aiuteremo a ripararla. Voi siete sicuri di poter riparare la mia astronave? Ma certo! Ora vedrete in azione un vero pilota di navi spaziali! Cosmo, sai pilotare le astronavi! Certo! Per esempio, questo è il pulsante di accensione! Non tornerò mai più sul pianeta, Miau! Non preoccuparti, Astricat! Domani porteremo la nave da Edison, il gatto scienziato! Lui saprà cosa fare! Nel frattempo... Tutti a nena! Buonanotte, Milady! Buonanotte, Cosmo! Sogni d'oro, Buffycats! Noi dormiamo così sul pianeta Miau! Gattastico! Buonanotte a tutti! Che sia una notte serena! Qui, Kappa! L'obiettivo è in questo garage! Che cosa facciamo? Qui, Zeta! Propongo un pisolino! Qui, M! Negativo! Dobbiamo rimanere svegli per controllare l'obiettivo! Che video gattastico! Clicca qui e guarda le altre! Iscriviti al canale! Ho! Voi! Voi!